Ci troviamo all'interno della preziosissima pieve di San Basilio, una chiesetta che si trova proprio sopra un'antica duna fossile, una chiesetta che ha anch'essa tanto da raccontare. Sicuramente questa piccola chiesa è stata realizzata quando questa comunità cristiana presente nel IV secolo che si era insediata presso la zona degli scavi archeologici visibili e visitabili ha dovuto abbandonare quel luogo, probabilmente intorno all'VIII secolo d.C. per problemi di carattere alluvionale e abbandonando quel luogo hanno cercato di realizzare una chiesa, un altro piccolo luogo di culto, in una zona più sicura. Ecco che sono andati ad individuare la duna fossile per realizzare sopra l'edificio, quindi mettendolo di conseguenza in sicurezza. Quando si è andati a togliere e a mettere mano al pavimento precedente che si trovava sempre allo stesso livello di quello attuale, hanno trovato una colmata di sabbia, cosa che è sembrata alquanto singolare, e togliendo via questa copertura sabbiosa, ecco che sono stati fatti dei ritrovamenti. Questi scavi ci hanno permesso di capire che la chiesa che vediamo oggi non è altro che il risultato di tre diverse fasi ricostruttive della chiesa, corrispondenti ad altrettanti tre periodi diversi. La parte più antica è quella che si vede proprio qui. Qui si vede una piccola apside dalla forma semicircolare. Si tratta di una delle due apside gemelle relative a questo primo edificio di culto, che è stato appunto realizzato qui, intorno all'ottavo secolo d.C. Abbiamo delle date abbastanza imprecise, diciamo, su questo. Un piccolo tempietto dalla forma perfettamente quadrata, sette metri per sette, con due apside gemelle iscritte proprio in questa pianta dalla forma quadrata. Anche osservando il pavimento vediamo che c'è questa linea di pavimento che sta realizzata in maniera diversa rispetto alle altre. Perché? Perché qui sotto è stato ritrovato un muretto che non è altro che la testimonianza che proprio qui in questa precisa posizione era stata realizzata una parete intermedia, divisoria, che andava a creare un piccolo atrio prima di accedere all'interno della chiesa vera e propria. E a quest'atrio si entrava sia dalla porta principale ma anche da una porta laterale. La seconda fase di ricostruzione della chiesa risale al 1700. Quando si è andati nel 1700 a fare questa modifica al pavimento, che cosa è successo? È successo che sicuramente sono state collocate anche quelle sepolture lì. Sono delle tombe in mattoni, a volta a botte. In tutto sotto ce ne sono dieci che si sviluppano proprio lungo, tutta la lunghezza della chiesa. Negli anni 90 quindi la chiesa è stata restaurata, è stata indagata ed ha poi riaperto nuovamente al culto agli inizi del 2000. Si tratta quindi di un fiore all'occhiello di San Basilio, una pieve che merita senz'altro un passaggio ed una visita e collegata strettamente proprio alla zona degli scavi visitabili del complesso paleocristiano. Grazie